Sono Alberto Bergio, presidente della cooperativa sociale La Cascina e responsabile dell'omonimo centro di urno. Immediatamente avevamo pensato che il lavoro poteva essere uno dei canali importantissimi per includere le persone, perché permettono alle persone di costruirsi un'identità e soprattutto essere riconosciuti nella loro dignità. Il lavoro non solo permette di costruirsi competenze e processi anche di autodeterminazione, ma favorisce anche la capacità di stare nel tempo e scandire il tempo della giornata e del proprio percorso di vita. È anche uno spazio di progettazione, di progetti educativi, progetti di vita, che consentono di attivare dei percorsi virtuosi organizzati e orientati al fine di migliorare la qualità di vita di ognuno. Non solo attività motorie, attività lavorative, ma anche attività più ludiche, di animazione, tutte attività che ci consentono di ampliare le nostre esperienze e definirci nella nostra identità. Grazie per la visione!